Saluto tutti voi amici di Sussurcrime, una puntata non indiretta nella quale tratteremo di un cold case del quale secondo me molti di voi hanno già sentito parlare. Si tratta del giallo del delitto del conte Alvise di Robiland, un aristocratico molto famoso ai tempi, siamo negli anni 90 in Firenze, che è stato anche direttore di una nota casa d'asta internazionale, un uomo di cultura, un uomo con un grosso patrimonio che vive da solo in Palazzo Ruccellai, quindi in centro a Firenze, in un palazzo storico e conduce una vita diciamo Charmant, probabilmente aveva numerose amicizie femminili, comunque faceva parte un po' di quello che era la creme dell'aristocrazia fiorentina di quel periodo. Il conte viene ritrovato cadavere il 16 gennaio del 1997 dalla sua cameriera. Il delitto fa pensare subito ad un furto andato coronale, perché il conte è rivestito soltanto da una vestaglietta corta, è nudo, ci sono dei segni di disordine limitati, il computer rotto del conte, un quadro all'interno della camera da letto, il rappresentante San Girolamo e non di grande valore, sfregiato con una coltellata, una bottiglia di champagne, e questa è una cosa molto importante, non aperta nella cucina. Questo fa pensare che il conte avesse ricevuto visite, anche perché non ci sono effrazioni alla porta d'ingresso. In effetti il conte aveva un appuntamento dopo cena con una cena organizzata da amici. Non vi si presenta, ma alle 19 circa lo si sente suonare pianoforte, abitudine che aveva praticamente quotidianamente e che i suoi vicini conoscevano molto bene. Però c'è da dire che quella sera i vicini dicono che chi ha suonato il pianoforte non sembrava essere il conte, non suonava bene, e questo è un altro dubbio nei confronti dell'ipotesi di una rapina andata male. Quello che ci interessa far notare subito è che, ad esempio, il pianoforte è stato completamente ripulito dalle impronte digitali, e quindi ci sono stati dei movimenti insomma particolari all'interno dell'appartamento da parte del conte e del suo assassino o dei suoi assassini, perché non si può escludere l'ipotesi che fossero due persone. Ci sono poi una strisciata con quattro ditte insanguinate su uno dei tendaggi e mi direte va bene, abbiamo le ditte insanguinate e di conseguenza avremo anche le impronte digitali. Eh no, perché le impronte digitali non fanno riscontro a nessuno delle persone segnalate di cui si possiedono le impronte digitali e quindi appartengono a degli sconosciuti. Invece, a essere certi di una cosa, è che i colpi che hanno ucciso il conte sono stati dati dall'alto verso il basso e sono una decina di colpi inflitti con un oggetto contundente, probabilmente un soprammobile di pietra o di marmo, del quale però non c'è traccia, il che fa pensare che il conte potesse essere in una posizione particolare. Infatti una delle piste che viene poi battuta e che susciterà anche un certo scandalo per i tempi è quello di un incontro gay da parte del conte che dottoriamente era riconosciuto come eterosessuale. A quei tempi ci si scandalizzava molto ancora per queste cose e quindi queste cose non venivano praticamente diffuse più di tanto. Inoltre il palazzo ha diverse entrate per cui si poteva essere anche discreti nel ricevere le persone. A suggerire questa ipotesi e a sostenerla è anche il fatto che il conte è stato ritrovato nudo sul pavimento ricoperto solo da questa vestaglietta corta che probabilmente conosceva l'assassino perché lo ha fatto entrare e che può darsi abbia avuto un rapporto orale con lui perché in un tampone oro-faringeo è stato ritrovato nella bocca del conte del liquido seminale che prima si è cercato di addebitare al conte ma poi siccome la cosa non stava in piedi e sono stati fatti dei controlli più curati, si è accertato che il liquido seminale appartiene probabilmente all'assassino. Quindi si tratterebbe praticamente di un delitto vaturato durante un rapporto magari a pagamento omosessuale. Questa pista viene rafforzata dal fatto, e questa è la parte più importante secondo me, che negli anni successivi ci saranno almeno altri tre delitti che possono somigliare e avere delle analogie importanti con quello del povero conte Alviso di Robiland. Due avvengono a Roma e riguardano sempre persone che hanno avuto a che fare con il mercato o con il mondo dell'arte e uno in particolare è a Perugia. Ce n'è uno poi, questo Piero Nottani, che è di Perugia appunto un restauratore della soprintendenza alle belle arti, che è quasi identico nelle modalità al delitto della Conte Alviso. Questo, come dico, fa pensare che ci possa essere un assassino omosessuale che aggancia praticamente personaggi che lavorano nel mondo dell'arte, in particolare nel mercato dell'arte, e che in qualche modo sforcia praticamente in un delitto. Forse per un affare non è andato in porto, forse per chissà quale motivazione, che potrebbe anche essere quello che viene sempre considerato insomma come raptus improvviso, che si possa parlare di raptus nell'ambito dei delitti. Questo sarà appunto un argomento di discussione dell'altra volta. Rimane il fatto che al giorno d'oggi il delitto del Conte Alviso di Robiland rimane un cold case del quale sentirete ancora parlare e magari più avanti si riuscirà anche a trovare di chi sono le misteriose impronte lasciate sul tendaggio o di chi sono gli effetti che hanno accompagnato i delitti similari a questo. È tutto, vi saluto, vi ringrazio. Al prossimo Sussur Crime, questa volta con Stefano Mauri in diretta. Grazie. 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 Grazie.